In mezzo a tante offerte sei disorientata perché le proposte ti sembrano tutte uguali ed obsolete? Tranquilla, è assolutamente normale che tu ti senta così e non è colpa tua, perché la scelta del servizio musicale è uno degli aspetti fondamentali per il successo della tua festa. Se fino a 20 anni fa la scelta della musica era una cosa scontata e banale perché ci si rivolgeva al musicista di paese, oggi le cose sono cambiate ma il mondo della musica per matrimoni non sembra andato di pari passo. Molte sposi sono convinte che scegliere il servizio musicale così al buio senza capire quali sono i parametri da valutare sia la cosa più semplice da fare ma non si rendono conto di quanto sia pericoloso. Solitamente i musicisti lì fuori, dietro la richiesta di informazioni di una sposa inviano un preventivo standardizzato che replicano n volte perché è sempre lo stesso e non ti chiedono neanche cosa vuoi e cosa ti aspetti dal servizio musicale e tu trovi solamente un elenco di caratteristiche tecniche e di cose incluse nei pacchetti. Ma soprattutto sono tutte cose fumose che tu non comprendi perché non sei una tecnica che ti sposi per la prima volta e non capisci quanto vale quella soluzione, che metodo c'è dietro e soprattutto che vantaggio tu avresti nello sceglierla. Anche se lì fuori nessuno te lo dice, il giorno del tuo matrimonio c'è un grande rischio che i tuoi ospiti si annoino tremendamente e ricordino solo la noia mortale, quanto si sono abbuffati e quanto si sono annoiati all'esterno sui divanetti del ristorante. In un matrimonio ci sono mediamente 100 ospiti. Sai che il 95 di loro tornano a casa stanchi, abbuffati e con la sensazione addosso di essersi annoiati? Sai che stai facendo uno degli investimenti più importanti della tua vita e se fai una scelta sbagliata vanifichi tutto quello che investi in termini di energie, aspettative e soldi per lasciare un ricordo straordinario nella mente dei tuoi ospiti?